Il Tocco di Persefone, edito da Mandese, è il libro di Angela Todaro, presentato nell'ambito della rassegna letteraria ospitata nella città vecchia di Taranto, da cibo per la mente e caffè letterario. I vicoli del Borgo Antico sono proprio i luoghi in cui si svolge la storia. Stasera lo presentiamo in quelli che sono i luoghi in cui si svolge la storia. I personaggi vivono in questi vicoli alla caccia di un assassino, ma anche di un antico mistero legato alla divinità Persefone, molto amata nella Taranto spartana, nella Taranto greca. Bisogna fare in modo che questa divinità venga via dagli inferi e torni finalmente alla luce. Il marchio Antonio Mandese Editore tiene un po' insieme la tradizione delle edizioni mandese con il desiderio di andare a cercare di valorizzare il patrimonio nazionale del nostro territorio, ma non solo. Stiamo facendo un lavoro di qualità sulla narrativa e il tocco di Persefone rappresenta un po' l'inizio di questo lavoro. Hanno dialogato con l'autrice Evelyn Zappi-Imbulso e Carmen Bonfitto che abbiamo ascoltato. Il romanzo è un romanzo completo in cui troviamo la storia, l'archeologia, la mitologia, il giallo, l'amore. Quindi veramente è un romanzo avvincente da tutti i punti di vista. I personaggi sono trattati in maniera splendida. Alcuni di quelli li avrei voluti incontrare sinceramente nella realtà.